Siamo in onda? Sì, siamo in onda, perfetto. Allora, io oggi voglio parlare di un tema molto delicato. Parliamo di vaccino, covid, green pass. Perché vogliamo parlare di questo? Non per dire se bisogna fare o non fare il vaccino. Questa è una libera scelta, ognuno è libero di decidere. Ma voglio fare una denuncia a chi specula sopra queste cose, perché le truffe esistono, le abbiamo viste su Facebook, le abbiamo viste su Instagram, le vediamo su Amazon, le vediamo su YouTube. Ci sono tantissime truffe. In questo caso ci ritroviamo davanti a una truffa del green pass. Sì, c'è la truffa del green pass. Ebbene sì, perché al momento il green pass è molto più difficile ottenerlo, perché molti di quelle persone che non hanno voluto fare il vaccino prima, adesso si ritrovano a dover fare un vaccino, oppure a non dover fare un vaccino e comunque essere bloccati, perché dal 6 agosto metteranno questa legge di dover avere il green pass per entrare bar, ristoranti, eccetera. La gente si ritrova in difficoltà. Quindi cosa hanno inventato? Hanno inventato la truffa del green pass. Io volevo portarla infatti subito sul canale per avvisarvi di questa truffa, visto che molto spesso abbiamo parlato di questa truffa. Quindi se volete sostenermi, sostenere il mio canale, potete iscrivervi e lasciare un commento di cosa ne pensate dei green pass, di cosa ne pensate delle vaccinazioni, di cosa ne pensate voi in generale, anche delle truffe. Quindi io comunque vi rispondo sempre, ho risposto sempre a tutti. Nelle ultime truffe dell'iPhone avete veramente commentato tantissimo e io a tutte le domande ho dato una risposta. Perciò se volete fare lo stesso, potete farlo qui sotto nei commenti. Allora, andiamo a vedere in dettaglio che cosa è questa truffa, perché io adesso accederò a Telegram. Ovviamente io oscurerò le immagini perché non voglio fare né pubblicità e né voglio indurvi ad andare a cercare questi canali. Però è un bene che io ve lo faccio vedere. Allora, entrando su Telegram, voi adesso lo vedrete qui, vedrete il mio schermo e vado adesso a cercare questo canale. Eccoci qua. Qua parla se avete bisogno di green pass con QR code, attivi e reali, affidatevi agli unici in Europa ad avere questo servizio. Maggiori informazioni andate su Join Chat. Poi dice tutto il resto è truffa. Tutto il resto è truffa, parliamo di truffe. Voi hai danni dello Stato, quindi voi siete i truffatori. Ma noi adesso andremo in questa chat, vogliamo vedere fin dove si spingono e cercare di capire se è possibile richiedere. Io non lo voglio richiedere perché io il vaccino l'ho fatto, perciò il green pass ce l'ho, quindi non mi serve una cosa del genere. Quindi andiamo a vedere, vediamo fin dove riescono ad arrivare. Perfetto, il 25 luglio hanno inserito questo annuncio. Green pass Covid 2019, costo di servizio, green pass digitale 100 euro, green pass cartaceo 120 euro. Ci sono molte richieste da nuclei familiari, quindi ci sono delle scontistiche, secondo loro 300 euro, 350 euro per 4 familiari, bla bla bla, 500 euro. I nostri green pass sono documentati regolarmente e rilasciati dal sistema sanitario europeo. Sono pertanto documenti reali. Ecco qua, dobbiamo entrare in chat con questa Veronica Tranelli. Fra l'altro Tranelli è una truffa, è un tranello, vedete un po'. Comunque, entriamo su questa Veronica Tranelli. Andiamo in questa chat, è disponibile dalle 11 alle 22. Perfetto. Adesso io scriverò salve. Perfetto, io ho scritto salve, ho letto del green pass, ma è davvero reale. Vediamo se rispondo. Ecco, è andata in linea, attendete. Ok, mi è stato subito inviato un messaggio, quindi questo è un bot, perché è stato inviato subito questo messaggio. Se sono interessato ad acquistare... Perfetto, ho scritto vorrei un green pass digitale solo per me. Voglio vedere quanto tempo ci mette, perché più o meno 30 secondi abbiamo calcolato. Probabilmente a 30 secondi. In linea, ha letto, sta scrivendo. Costo di 100 euro. Ok. Bitcoin o Ethereum? Ecco, perché questo già... Non ho criptovalute, gli dico. Ok, mi sta rispondendo. Vediamo. PayPal? Sì. Ok, io ho scritto. Lei mi ha chiesto se avevo delle criptovalute, perché quelle non sono rintracciabili, perciò il pagamento non è rintracciabile. Ho PayPal? Mi fa se ho PayPal. Io ho scritto sì, voglio vedere. Adesso probabilmente mi dirà invia questi soldi a PayPal. Vediamo se mi scrive così, ovviamente io non gli manderò questi soldi, perché non è proprio una cosa legale. Ok, ho provato a riscrivergli, perché non so cosa... Non mi sta più rispondendo. Non ha più letto il messaggio. Speriamo che mi risponda. Se no, comunque possiamo concludere qua, perché già mi viene il vomito a pensare di queste persone che fanno queste truffe. Ok, ho dovuto staccare la telecamera, perché comunque non mi sta più rispondendo, non ha più visto i messaggi. Non lo so se possa aver capito qualcosa, non lo so. Bene, possiamo chiudere qui questa chat schifosa. Perfetto, quindi io quello che vi voglio dire è che questa è una truffa, perché l'unico Green Pass ufficiale, al momento sono i QR, quelli quadrati, quelli simboli, tutti i simboli quadrati, per chi non conosce il QR, ma più o meno tutti lo conosciamo, quello è il vero Green Pass. Quando vanno a fare una scranializzazione vanno a vedere i tuoi dati. Quindi il vero Green Pass lo puoi ottenere solamente facendo il vaccino. Prima dose ricevi un Green Pass per la prima dose, la seconda dose ricevi il Green Pass ufficiale del completamento del vaccino. Quindi l'unico modo per poter ricevere un Green Pass è questo. Non affidatevi a questi canali Telegram, non andate a pagare quel Green Pass totalmente illegale, se vi beccano sono multe, grane e probabilmente c'è la denuncia e andate nel penale. Quindi state molto attenti, non cadete in queste trappole, in queste truffe. Mi raccomando, rimanete sintonizzati perché io periodicamente scovando altre truffe le inserirò nel canale, oltre al mio canale di tecnologia, la tecnologia fa parte di queste cose perché le truffe entrano dentro la tecnologia quindi dobbiamo assolutamente difenderci. Quindi se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e visto che non abbiamo ricevuto risposta su Instagram, se voi andate a iscrivervi nel mio canale Instagram inserirò un video della risposta. vediamo se riusciamo a fare qualche cosa, riusciamo ad avere qualche informazione in più. Quindi questa è diciamo tra virgolette una prima parte, la seconda parte la troverete su Instagram, speriamo che mi rispondano, se non la trovate perché non mi hanno risposto. Perciò rimanete sintonizzati, ci vediamo al prossimo video e ciao! Mi raccomando, truffe, niente truffe, non le vogliamo, via 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 via, ciao ciao ciao!